Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. E' indagato per omicidio colposo il ciclista friulano Nicola Venchiarutti, un atto dovuto per consentire le indagini sull'incidente di domenica scorsa. Nel frattempo migliorano le condizioni del ragazzo operato ieri notte alla schiena. Dalle Marche arrivano gli ultimi aggiornamenti in merito all'incidente che ha visto protagonista il ciclista friulano Nicola Venchiarutti. Il PM Andrea Laurino della Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del 23enne. Si tratta di un atto dovuto al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente. E' infatti necessario indagare sulle cause dell'investimento costato la vita al direttore sportivo della Viris Vigevano Stefano Martolini. Fin qui l'aspetto investigativo. Notizie confortanti invece sul fronte delle condizioni di salute del ragazzo operato ieri notte alla schiena arrivano da Roberto Bortolutti, anima della ciclistica buiese, che ha parlato con i familiari di Venchiarutti. Diciamo che è andata bene. Abbiamo notizie che per un millimetro poteva esplodere la vertebra, una delle tre che ha lesionato. Questo permette di avere speranza che non ci siano problemi alle gambe, agli arti inferiori. Questa è la notizia che pensiamo sia quella giusta che più rassicurante di tutti. Quindi speriamo bene, gli auguriamo di rimettersi, di tornare come prima e noi lo aspettiamo. Omicidio Toffoli, oggi sopra luogo degli inquirenti nell'abitazione di Vincenzo Paglia Longa, indiziato per il delitto. Martedì scorso era stato passato al setaccio l'appartamento della vittima. A una settimana di distanza dal sopraluogo nella casa della vittima, inquirenti e consulenti sono tornati questa mattina in via della Valle a Udine nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Lauretta Toffoli, avvenuto la notte di sabato 8 maggio. La donna è stata uccisa con 33 coltellate. In giornata sarà passato al setaccio l'appartamento di Vincenzo Paglia Longa, indiziato per il delitto e attualmente in carcere. Attorno alle 9.30 sono arrivati all'ingresso della palazzina Ater gli agenti della Polizia Scientifica di Padova, il consulente della difesa esperto di scena del crimine Eddie Sanson e la criminologa Linda Pontoni, incaricata dal legale di Paglia Longa, Pier Giorgio Bertoli. L'attività dovrebbe proseguire anche nel pomeriggio. Martedì scorso, gli inquirenti si erano concentrati per un paio d'ore nella stanza della struttura protetta di Udine nella quale vive Manuel Mason, figlio della vittima. Poi si erano trasferiti in via della Valle, passando al setaccio l'appartamento della vittima. Qui era stato riscontrato come l'assassino avesse cercato di cancellare le proprie tracce, pulendo i pavimenti dell'abitazione senza completare il lavoro, mettendo a suo quadro le stanze, svuotando armadi e cassetti. Nei giorni scorsi, l'avvocato difensore di Paglia Longa, Bertoli, aveva riferito che la madre dell'indiziato sarebbe a conoscenza di aspetti della vicenda che potrebbero scagionare il figlio, facendo riferimento in particolare alla presenza, nell'appartamento di Paglia Longa, di cittadini pakistani. Parte oggi alla Tribunale di Pordenone il processo a carico di Dmitry Trajkov, accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato e fuga. L'uomo a fine gennaio causò la morte di due donne e il ferimento di due piccole bambine. La procura ha chiesto il giudizio immediato, la difesa riproporrà l'istanza di patteggiamento o rito abbreviato. Al via oggi il processo a Dmitry Trajkov, il 62enne imprenditore bulgaro, accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla fuga e dall'abuso di alcol, omissione di soccorso e lesioni. L'uomo a fine gennaio travolse con il suo SUV in A28 l'auto sulla quale viaggiavano le cugine Venete Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, morte sul colpo, e le due figlie piccole di Sara rimaste gravemente ferite. Nell'udienza di oggi al Tribunale di Pordenone, fissata per le 12.30 davanti al GIP Monica Biasutti, si consumerà il primo atto giudiziario della vicenda. Per Trajkov la procura ha chiesto il giudizio immediato, mentre la difesa, affidata ai legali Gianni Massanzana e Loris Padalino, aveva proposto istanza di patteggiamento con un risarcimento di 70.000 euro, proposta respinta, ma che oggi gli avvocati presenteranno nuovamente. In alternativa, la loro richiesta sarà quella di sottoporre Trajkov al rito. Abbreviato su questo punto, si esprimerà il giudice sull'imprenditore bulgaro. Attualmente ai domiciliari, con braccialetto elettronico nella sua casa di Pordenone, pesano due perizie. La prima, redata dall'ingegner Pierluigi Zamuner, ha stabilito che il SUV procedeva a 180 all'ora quando ha impattato l'utilitaria delle due donne. La seconda, affidata dalla procura al medico legale Michela Frustaci, ha messo in evidenza come Trajkov abbia assunto alcol prima dell'incidente, e non successivamente, come sostenuto dall'uomo, datosi alla fuga dopo l'impatto e ritrovato solo ore dopo a casa dalle forze dell'ordine. Le posizioni dei familiari delle vittime saranno rappresentate dagli avvocati Enrico Dorazio, Giuseppe Gulli, Luca Motta e Alessandra Nava. Oltre 2.500 articoli di abbigliamento non conformi alle regole del Codice del Consumo sono stati sequestrati tra le bancarelle del mercato settimanale di Monfalcone la scorsa settimana. A seguire il controllo sono stati gli uomini della Guardia di Finanza e del Comando di Polizia Locale. Secondo quanto appurato dai finanzieri, gli ambulanti proponevano al pubblico vestiti, destinati anche ai bambini, privi della marcatura CE, ovvero del certificato di qualità e non tossicità. Da qui la confisca di beni per 7.700 euro e le sanzioni ai venditori con multe per circa 1.000 euro. Odia a tal punto i felini che li avvicina, li cattura e li porta via lontano dalla propria abitazione, perché non lo infastidiscono, stando alla testimonianza di una fiulana, un anziano che abita in un paese del Medio Fiuli avrebbe sequestrato ieri sera il suo gatto portandolo lontano per diversi chilometri. La vicenda è stata raccontata dalla proprietaria della Micia su una pagina Facebook dedicata agli animali. La sottrazione è stata scoperta quando la proprietaria non ha trovato la sua gatta a girovagare nei paraggi della sua abitazione. All'armata ha quindi deciso di seguire il segnale GPS lanciato al colare dell'animale e installato proprio perché già altre volte la Micia era stranamente scomparsa dalla circolazione. La Micia è stata trovata a 7 chilometri di distanza, chiusa in una gabbia posta all'interno di un bagagliaio. I dati della pandemia sono 442 nuovi casi di Covid a fronte di 3954 tamponi molecolari e 3418 test rapidi antigenici realizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono due, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 115. Oggi si registrano il gesto di due persone a Udine. Lo sport rivoluzione in casa Udinese, il mancato rinnovo di Cioffi adatto è là ad altri addi nello staff tecnico bianconero. La società si trova a far fronte ad un problema inatteso. Nemmeno il tempo di gioire per la bella vittoria a Salerno che l'Udinese e i suoi tifosi sono stati travolti dalla grana allenatore Cioffi. Il tecnico ha rifiutato il rinnovo e pare già diretto a Verona. Non sarà però l'unico a lasciare. Anche una parte dello staff infatti abbandonerà il progetto bianconero. Nei giorni scorsi aveva già salutato il preparatore spagnolo Maidana Storace, annunciando via social l'addio dopo una sola stagione in Friuli. Altri seguiranno il suo esempio, qualcuno proprio seguendo Cioffi all'Ellas. Il riferimento è all'idolo della tifoseria Giampiero Pinzi, diventato vice di Cioffi nel momento in cui l'allenatore toscano è subentrato a Luca Gotti. Il guerriero bianconero ha lavorato in assoluta sintonia con Cioffi e dovrebbe raggiungerlo nel club Scaligero, portando con sé il figlio Riccardo, fresco di esordio in Serie A con la maglia dell'Udinese. Si sussurra che lasceranno anche il match analista Enrico Iodice e il preparatore Antonio Bovenzi. Un problema non da poco per l'Udinese che, si dice, si è rimasta spiazzata e non l'abbia presa bene, delusa da un atteggiamento che considera ingrato da parte dell'allenatore. Ma, come annunciato già nel comunicato di Ramato ieri, il club si è prontamente messo a lavoro per la programmazione della prossima stagione e l'allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti. Una situazione che, ovviamente, inciderà anche sulle tempistiche del mercato che riguarda i calciatori. La diocesi di Udine apre le porte agli armeni, concedendo l'utilizzo della chiesa di San Bernardino per le celebrazioni sacre, con i loro riti e la loro religione. L'Associazione degli Armeni di Udine ha avuto incomodato d'uso per un anno la chiesa di San Bernardino, che si trova in via Ellero. Per l'occasione, domenica prossima, alle 17.30, sarà celebrata la Santa Messa in rito armeno, che sarà ufficiata dai padri mechitaristi dell'isola di San Lazzaro degli Armeni. La volta successiva, alternativamente, saranno i padri della chiesa apostolica armena, che c'è un padre a Milano, verrà qui appositamente per celebrare la Santa Messa in rito armeno. Questo grazie alla grande sensibilità che abbiamo avuto da parte della diocesi di Udine. I mechitaristi seguono il rito cattolico? Sì, certo, sono cattolici, dipendono dal Vaticano, naturalmente. La Messa sarà celebrata in lingua armena, però è molto simile al rito cattolico. La religione armena si stacca dall'ortodossa e si stacca anche da quella cattolica? Sì, certo, è una chiesa apostolica, la chiesa armena, per cui è una chiesa per sé. Noi abbiamo il nostro capo supremo della chiesa armena, che si chiama Katolikos, che sarebbe il fratello del nostro Papa, e la santa sede della chiesa apostolica armena si trova in Shmiadzin, che sarebbe una cittadina a una ventina di chilometri dalla capitale, che è Yerevan. Cambia la viabilità alla tisana, il sindaco, la Franco Sette, presenta la nuova rotonda. Questa rotatoria è un intervento di sicurezza, di messa in sicurezza, prevedendo l'insediamento di una rotatoria, e al contempo abbiamo anche previsto un sistema più visibile di attraversamento pedonale, in modo tale che anche i pedoni abbiano un innalzamento del livello di sicurezza. Vediamo che sta funzionando, perché il traffico che è notevole in questa zona è fluido, è più scorrevole, quindi crediamo che sia stata una soluzione adeguata. Abbiamo speso circa 400 mila euro, che erano già a bilancio, su un progetto che aveva diverso tempo, era nel piano delle opere pubbliche anche in precedenza, triannale, quindi i tempi sono stati celeri e centrati rispetto ai preventivi. È una viabilità di collegamento anche rispetto alla regione Veneto, e quindi molto spesso c'è una deviazione del traffico per le località sia di Bibione, ma anche di Lignano, che transita su questa strada, per cui abbiamo ritenuto necessario per la fluidità del traffico, ma soprattutto per la sicurezza, creare questa struttura. Andiamo a Valvasone, dove è stato inaugurato il recupero del piano nobile del castello. Il restyling del castello di Valvasone è realtà. L'intervento di ripristino, per il quale sono stati investiti 8 milioni di euro, utilizzati dalla regione per l'acquisto, il consolidamento e il restauro architettonico e artistico della porzione, corrispondente alla parte più antica, risalente al 1200, restituisce all'attrattività del turismo dell'intero Friuli Venezia Giulia un gioiello del territorio. Il recupero e quindi il riportare alla disponibilità della collettività un gioiello come quello del piano nobile del castello di Valvasone è qualcosa che si attendeva da tempo ed è altrettanto necessario che gli eventi culturali, che qui trovano la loro dimora in assoluto più idonea, riescano a partire e ripartire. L'inaugurazione è stata sugellata dalla prima assoluta dello spettacolo Il leone e il lupo, la storia e sogno, un evento avveniristico che ridavita il maniero e che andrà in scena fino al 5 giugno grazie al sostegno di Friuli Ovest Banca. Questo regalo che ci fa il gruppo Artissi Furlan grazie al contributo della regione che va sottolineato, che con questi fondi dedicati alla ripartenza per il mondo della cultura, ha creato questo evento unico, un itinerario all'interno del castello, con la possibilità di incontrare i conti di Valvasone, i loro antenati e scoprire le loro vicende, attraverso le loro vicende e anche immergersi in quello che è un po' il nostro castello. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con In Giro e poi a voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.